La mostra Medincina, giovani artisti cinesi in Italia, porta in scena varie forme di arte, dalla pittura alla fotografia alla scultura all'installazione. Gli artisti che mettono in esposizione le loro opere sono giovani cinesi che vengono a studiare arte in Italia. E anche di meno la qualità del loro operato perché sono delle opere di alto livello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.